Oh, mi raccomando, decci perfetta sta scritta, eh? Ha voglia? Verrà in capolavoro! Vai! Oh, ma usate a fare come voglio io, sì? Tranquillo, abbiamo qua i fogli che ci hai dato, il carattere che vuoi, più chiaro che così. Non dovete sbagliare manco una linea, eh? Capirai, non è che c'è una scienza per tatuare una frase del genere. Diciamo che non è proprio il massimo dell'originalità. Invece per me è importante, perché è un infidamento alla mia metà che sta passando un brutto periodo. Non esageravo, poi stiamo soltanto all'inizio del campionato. Ma che scelta il campionato, oh? Finito, guarda che spettacolo. Oh, la mia, allora, sei un domenica olimpico? Sempre presenti, Gabriele. Dai, e forza Lazio, eh? E sempre forza Lazio! Scusa un attimo, ma chi è che sta passando un brutto periodo? Mi moglie, per questo mi sono voluto fare tatuare questa frase poetica. Forza amor! Oh, mi fa vedere come è avvenuto questo tatuaggio? Oh!